ciao ciao a tutti e benvenuti su archidei il video di oggi è dedicato alle creazioni realizzate con i miei nuovi calchi le prime creazioni infatti nel mio negozio archidei shop.com adesso oltre alla sezione relativa ai tagliabiscotti fatti con la stampante 3d e agli stencil fatti con la silhouette portrait troverete anche una sezione tutta dedicata alla resina dove inizialmente c'erano solo gli open bezel fatti sempre con la stampante 3d e adesso ci sono anche gli stampi l'idea di mettere gli stampi l'ho avuta da moltissimo tempo solo che non trovavo mai il tempo utile proprio per realizzarli quindi per andarmi a guardare tutte le forme che avevo come disporle come strutturare proprio la parte della vendita dei calchi in modo che fossero poi anche per me facilmente riproducibili perché finora avevo fatto tutti i calchi che servivano solo a me stessa e non mi ero preoccupata affatto della riproducibilità ci sono per ora nel mio shop due tipologie diverse di calchi quelli che state vedendo adesso sono dei calchi ottenuti da forme in plexiglass mi avete visto tirarle fuori proprio nelle immagini precedenti e questo qui è il risultato dei calchi finiti una volta rifinito anche il bordo e tutti quanti i bordi interni lì dove era necessario ho fatto tagliare queste forme da una lastra in plexiglass di spessore 4 mm in plexiglass trasparente bello lucido e dopo ho ottenuto appunto tutti i calchi che avete visto e diciamo che il procedimento ve lo sto facendo vedere un po al contrario questa era un'idea che volevo realizzare veramente da almeno tre o quattro anni ma c'erano sempre altri avvenimenti o altri pensieri un po autolimitanti che mi bloccavano finalmente mi sono sbloccata mi sono decisa a fare anche questo passo e spero che gradirete le forme che ho scelto per questi calchi la seconda tipologia di calchi che troverete all'interno del mio shop è quella che vedete nel calco sulla sinistra dove ci sono dei cabochon infatti ho selezionato tra tutte le pietre che ho collezionato in questi ultimi anni quelle più belle dalle forme più interessanti e da quelle pietre ho ricavato i calchi così e si possono ottenere dei componenti in resina che sono perfetti per essere incastonati soprattutto con la tecnica wire wrapping perché quello che ho notato io lavorando molto con la resina e anche con la tecnica web wrapping è che ci sono delle forme per cabochon in resina ma spesso hanno il bordo troppo sfungente poco arrotondato che non si presta benissimo alle lavorazioni web wrapping anche se qualcosa si riesce a combinare anche con quei cabochon volevo però un prodotto ottimale per chi aveva le mie stesse esigenze questo almeno è quello che è emerso dal corso online gioielli wire wrapping che vi ricordo è ancora attivo e se invece volete approfondire la tematica della resina c'è sempre il corso online gioielli in resina che continua ad essere un best seller naturalmente i cabochon che poi si ottengono non si possono incastonare solo con la tecnica wire wrapping ma vanno benissimo anche da incastonare con le perline facendo delle tessiture magari peyote da incastonare con la tecnica embroidery o da incastonare con il su touch l'esperimento che sto facendo in queste immagini è stato quello di mescolare con la resina delle chips di corallo o qualcosa di simile nel senso che queste chips mi sono state regalate tantissimo tempo fa per cui non ho neanche proprio la garanzia che sia corallo puro o che invece sia qualcos'altro e non lo so distinguere sinceramente ma visto che non mi andava di utilizzarle come chips nelle collane ho deciso di mescolarle con la resina e la foglia oro e farne quindi dei cabochon più un paio di orecchini ricavati in una delle forme che sono state prese dalle lastre in plexiglass in questo caso al di sopra non avrò una parte piatta e liscia ma avrò una parte materica un po' irregolare data proprio dalle chips di corallo gli orecchini invece che vado a fare adesso saranno poi lisci alla fine della lavorazione perché sono fatti con le scaglie dei petali che mi avete visto usare anche nel tutorial dei cuori e con la foglia oro quindi qui sto ripetendo più o meno lo stesso procedimento che ho fatto nei cuori solo che visto che lo spessore è minore e visto anche che gli orecchini devono essere dubble fas in questo caso non avrò un primo strato con i petali e un secondo strato di fondo ma avrò uno strato interamente fatto con petali e resina e foglia oro e in alcune forme ho deciso di mettere la parte con i petali e la foglia oro da un lato degli orecchini e di lasciare più trasparente l'altro lato invece per altri orecchini ho riempito interamente la forma con questo composto nel tutorial relativo ai cuori vi avevo promesso che vi avrei fatto sapere dove avevo preso i petali di rosa stabilizzati tantissimo tempo fa mi hanno dato una dritta non mi ricordo neanche più chi me l'aveva detto comunque mi hanno detto che andando sul sito www petalidirosa shop punto it avrei potuto ordinare dei campioni di petali di rosa stabilizzati o liofilizzati infatti questo qui è stato il mio ordine ho visto che questo sito anche se sono passati tanti anni è ancora attivo per il campione c'è da pagare una piccola cifra e secondo me ne vale assolutamente la pena perché oltre ai petali di rosa nei colori più classici ci sono anche i petali di rosa più particolari come ad esempio quelli blu o quelli turchesi nello stesso shop poi volendo si possono acquistare proprio anche le confezioni più grandi di petali di rosa che normalmente vengono acquistate per degli eventi ma se voi avete una grande produzione di gioielli in resina e fiori magari vi fanno comodo o magari potete dividere l'ordinativo con qualche amica ed è possibile anche acquistare dei fiori stabilizzati interi che sono molto molto belli io e dall'epoca che ci sto facendo seriamente un pensierino ad esempio le rose stabilizzate sono veramente belle e le vedrei bene inserite all'interno di lampade in resina oggetti piuttosto grandi e voluminosi solo che appunto hanno un certo costo perché mi sembra che stanno sui 13 15 euro ogni rosa e questo mi ha sempre un po frenata dall'acquisto ci tengo a dire che questo non è assolutamente un video sponsorizzato e i proprietari del sito non sanno neanche che sto facendo questo video e come vi ho detto mi è stato suggerito da qualche amica creativa o amico creativo penso almeno 7 8 anni fa quindi non riesco più neanche a ricordare chi me lo aveva suggerito io poi avevo preso questi campioni ne avevo utilizzati tipo due e gli altri erano rimasti lì da parte e infatti si erano anche un po arrovinati questi petali quello che c'è scritto sul loro foglietto infatti è che si mantengono per un anno dal momento del mio ordine di anni ne sono passati diversi quindi ovviamente i petali che ho io non erano in buone condizioni e questo è il motivo per cui alla fine li ho dovuti spezzettare però hanno dei colori ancora molto vivi e molto belli in queste immagini potete vedere invece qual è il risultato dei cabochon con all'interno le chips di corallo e io sono molto soddisfatta alcuni cabochon tra quelli che farò prossimamente saranno in vendita sul mio sito altri invece li utilizzerò in prima persona per andarli a incastonare qui mi era avanzato un po di resina e altre chips e sono andata a riempire un cuore sfaccettato e qui vediamo la molding dai miei calchi se rimane qualche gocciolina di resina intorno non vi preoccupate perché si può togliere con le forbicine si può limare se volete un effetto bombato come quello che vedete qui nelle immagini dovete aggiungere poi un ulteriore strato di resina dopo la catalizzazione della prima parte della prima colata della resina altrimenti otterrete semplicemente gli stessi ciondoli ma in versione un po più piatta in ogni calco ci sono sia le forme per fare la parte a perno e e sia le forme per fare il pendente e ci sono poi delle forme in più degli ovali o dei cabochon tondi o delle gocce piccoline che io includo sempre nei miei calchi perché mi capita spesso quando finisco la colata di avere ancora delle gocce di resina di cui non so bene cosa fare non mi va di sprecarle e in genere li metto in questi spazietti in più e poi magari in un secondo momento mi torneranno utili non ho pensato in questo video a riprendere la parte della foratura dei perni e degli orecchini e dell'assemblaggio degli orecchini perché mi sembrava una cosa davvero molto semplice però mi è stata chiesta nei commenti su instagram quindi se è una cosa che vi interessa fatemelo sapere anche qui perché di calchi ne ho molti altri da collaudare magari così al prossimo tutorial vi faccio vedere anche come fare la parte finale se il video vi è piaciuto e lo spero veramente mi raccomando lasciatemi un pollice in su condividetelo su facebook oppure su whatsapp con i vostri contatti creativi e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche così sarete avvertiti appena pubblicherò i prossimi tutorial io come sempre vi lascio tutte le info utili in infobox e vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao